Ben ritrovati a Ultimati G, nel tardo pomeriggio il presidente della regione Nello Musumeci ha presentato all'Ars un disegno di legge inerente a provvedimenti urgenti rivolti ai sindaci in materia di abusivismo edilizio. Il servizio di Luca Licata. L'iniziativa governativa e il disegno di legge presentato nel pomeriggio dal presidente della regione giunge a distanza di poco più di due giorni dalle alluvioni che hanno causato 12 morti in Sicilia. Prevede l'istituzione del regolamento per l'autorità di Bacino, una struttura interdipartimentale il cui compito è quello di programmare la gestione degli interventi sui corsi d'acqua. Contiene misure urgenti, inoltre in materia di urbanistica. Secondo ordinanza, infatti, i sindaci saranno tenuti a disporre l'immediato sgombero e l'interdizione all'uso di tutti quegli immobili considerati a rischio per la loro particolare ubicazione. Prevede anche, qualora i sindaci non ottemperassero all'ordinanza, la decadenza di questi dalla carica. Alcuni edifici in Sicilia abusivi vanno demoliti e vanno demoliti subito. Altri edifici pericolosi, vulnerabili, abusivi vanno tenuti liberi. Non possono ospitare persone, nuclei familiari. Non possono per evitare che accada quello che è accaduto a Casteldaccia. E allora noi, con questo disegno di legge, mettiamo i sindaci nelle condizioni di intervenire subito per impedire l'uso dell'abitazione se si trova in una posizione particolarmente pericolosa e vulnerabile. Previsto un fondo di rotazione con il quale la Regione, su richiesta dei Comuni, interviene per anticipare le spese dei primi 60 giorni di alloggio a favore di quelle famiglie costrette a sgomberare. Se nell'allontanare la famiglia che abita la costruzione abusiva il Comune non dovesse avere le risorse per consentire la prima ospitalità al nucleo familiare sfrattato, fra virgolette, la Regione interviene anticipando le risorse per la prima sistemazione. E in risposta all'appello lanciato dal Sindaco di Casteldaccia, che ha portato all'attenzione il fatto che il proprio Comune non ha i fondi per intervenire nell'adempimento delle demolizioni, l'intenzione è quella di rivolgersi al Governo nazionale. Noi proprio oggi chiederemo con un atto formale al Governo centrale di istituire un fondo speciale per i Comuni che hanno necessità di procedere alla demolizione delle case abusive ma che non possono farlo perché nel bilancio non hanno le risorse necessarie. Ecco appunto il Presidente Musumeci su nostra richiesta ha risposto anche al Sindaco di Casteldaccia che proprio ieri aveva dichiarato di non avere i fondi per le demolizioni delle case abusive compresa purtroppo quella in cui hanno perso la vittima nove persone e proprio stamattina si sono celebrati i funerali. Un sole beffardo ha colto stamattina in cattedrale le salme della tragedia di Casteldaccia. I migliaia hanno voluto rendere omaggio per l'ultima volta alle nove vittime una folla commossa applaudita lungo le tre bare bianche all'ingresso in chiesa. C'era quella del piccolo Federico di 15 anni che ha tentato di salvare fino all'ultimo la sorellina Rachele di un anno tenendole in alto fino a quando non è stato sopraffatto dalla furia dell'acqua. Quella maledetta notte c'era anche Francesco, tre anni, il nipotino di casa, figlio di Monia, sorella di Giuseppe Giordano, unico superstite della tragedia. Tra le vittime la moglie di Giuseppe Stefania, genitori Antonino e la moglie Matilde e ancora il fratello di Giuseppe Marco e la nonna Nunzia. Al funerale avrebbe voluto presenziare anche Antonino Paci, il proprietario della villetta, ma gli è stato vietato dalla famiglia. C'erano invece le autorità, il sindaco Orlando e in fondo alla cattedrale anche il presidente della regione Musumeci. A celebrare i funerali Monsignor Giuseppe Oliveri, il vicario generale di Palermo e Monsignor Filippo Sarullo. Nella sua omelia Don Oliveri ha parlato della necessità di trovare al più presto la verità senza inutili balletti. All'uscita un silenzio irreale, rotto solo da un lungo applauso, ha scortato le bare. C'era la salma di Federico, portata in spalla da amici e compagni, e poi Rachele e Francesco, accompagnati in cielo da centinaia di palloncini bianchi. C'era la curva Nord 12 del Palermo, con uno striscione dedicato a Federico. C'erano le forze dell'ordine schierate, c'era gente comune e semplici persone che hanno riempito il sagrato della cattedrale. Abbassate anche le saracinesche dei negozi, bandiere ammezzaste in tutta la città e lutto cittadino per l'intera giornata di oggi. Le salme adesso saranno traslate al cimitero dei Cappuccini. E dopo la tragedia di Casteldaccia, il Codacons denuncia il sindaco per l'associazione. Si tratta di omissione di atti d'ufficio. Intanto domani gli operai dei cantieri edili annunciano un minuto di silenzio. Nel giorno dei funerali delle vittime della tragedia di Casteldaccia, tutta la Sicilia si ferma per osservare un minuto di silenzio. Bandiere ammezzaste in tutti i palazzi, gli uffici, le strutture regionali. E mentre continuano senza sosta le ricerche del medico Giuseppe Liotta, disperso nella zona di Corleone, si cercano i responsabili della tragedia. Il Codacons, dopo quanto rivelato dall'ufficio stampa del Consiglio di Stato e della Giustizia Amministrativa, secondo cui il Tar Sicilia a Palermo non ha mai sospeso l'ordinanza di demolizione dell'immobile incontrata a Cavallaro, ha deciso di denunciare alle procure di Palermo e Termini Merese il sindaco del comune di Casteldaccia per la possibile fattispecie di omissione di atti d'ufficio in relazione al mancato abbattimento dell'abitazione. Oggi piangiamo la morte di cittadini sorpresi in Sicilia dalla furia del maltempo all'interno di case abusive costruite sugli argini dei fiumi, si legge in una nota dell'associazione. Ma se otto anni fa fossero state accolte le nostre richieste, le stesse case sarebbero state individuate, abbattute o messe in sicurezza. Nel 2010 avevamo infatti diffidato la protezione civile a fornire tutti gli atti relativi alla predisposizione dei piani di assesso idrogeologico e gli atti autorizzativi da costruzione di edifici sui bacini, corsi d'acqua e falde acquifere. Intanto domani alle 11.59 tutti i cantieri edili siciliani si fermeranno per un minuto di silenzio in memoria delle vittime del maltempo nell'isola, lo rendono noto Feneal Will, Filca Cisle, Filea CGL, promotori dell'iniziativa. Gli operai vogliono manifestare con un gesto simbolico la loro vicinanza alle famiglie di queste persone morte per l'incuria, per il mancato rispetto delle regole e per la lentezza nell'utilizzo delle risorse destinate alla messa in sicurezza del territorio. I sindacati rilanciano la necessità di far partire subito i cantieri per la prevenzione del rischio idrogeologico e quelli per le infrastrutture siciliane. Sui danni in maltempo e sull'abusivismo interviene il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. È necessario un grande piano nazionale per delocalizzare, cioè abbattere e consentire la ricostruzione in aree regolari. Per le demolizioni inevitabili di edifici a rischio, come tutti quelli collocati nel tetto dei fiumi, occorre varare un'autorità terza che liberi gli amministratori locali da responsabilità che non possono prendersi dall'impossibilità economica di procedere materialmente agli abbattimenti e tuteli la vita di persone e famiglie. Restiamo in tema di maltempo perché con un ordine del giorno presentato dai 5 Stelle e approvato dall'Assemblea regionale siciliana, si impegna il Governo regionale a chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i comuni colpiti dai nobifraggi dei giorni scorsi. Il provvedimento impegna l'esecutivo ad attivare le procedure nei comuni che ne facciano richieste insieme a una quantificazione dei danni e all'attivazione di ogni misura idonea alla messa in sicurezza dei territori sotto il profilo strutturale, infrastrutturale e della salvaguardia del suolo. In Sicilia il maltempo ha causato ingenti danni in 7 province su 9 dell'isola e in particolare, lo ricordiamo, dalle province di Trapani, Palermo, Agrigento, Messina, Catania, Siracusa e Racusa e ha provocato la morte di 12 persone, mentre una risulta purtroppo ancora dispersa. Cambiamo decisamente argomento. Tutti assolti con formula piena, nonostante i reati contestati fossero caduti in prescrizione e la sentenza della seconda sezione penale del Tribunale di Catania che è entrato nel merito nel processo sul presunto uso di cemento depotenziato nella realizzazione di due tratte della metropolitana di Catania imputati erano dirigenti della FCE, costruttori, ingegneri e professionisti accusati a vario titolo di truffa, falso e frode nelle pubbliche forniture. Ad ultima news, l'avvocato Tommaso Tamburino. La procura ha inizialmente ipotizzato il reato di frode nelle pubbliche forniture, si pensò che nella realizzazione di questa opera fosse stato utilizzato cemento impoverito, quindi un cemento di qualità inferiore rispetto a quello che era previsto nel capitolato d'appalto e pertanto un'indagine importante, corposa, con tante consulenze che nel corso dell'indagine ravvisarono effettivamente una qualità inferiore e quindi un vantaggio patrimoniale importante a favore della ditta giudicataria dei lavori. L'idea era quella che essendo sei utilizzati materiali di formi e quindi di qualità inferiore potesse esserci anche una qualità inferiore dell'opera e quindi addirittura una scarsa sicurezza dell'opera. Ci fu una fase in cui addirittura si chiese il sequestro della metropolitana, una parte della metropolitana, perché si riteneva che potesse essere addirittura poco sicura e che nel caso di terremoto poteva crollare tutto, perché trattandosi di una zona ad alto rischio poteva realizzarsi questa evenienza. Oggi non siamo arrivati a una sentenza che dice che nel caso di dubbio, si tratta di un dubbio, comunque vi è un'insufficienza di prova per ottenere la soluzione. Al contrario, abbiamo la prova evidente che gli imputati devono essere assolti e pertanto la prova evidente che la metropolitana è stata costruita in modo corretto e con l'uso di materiali appropriati. Ci spostiamo di nuovo a Palermo, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato tre pregiudicati colti in flagrante, mentre armati con il viso coperto tentavano di rapinare una farmacia del centro. Per poche centinaia di euro non avevano esitato a puntare una pistola contro i titolari e i clienti di una farmacia del centro di Palermo, in via Berrettaro. Ma il colpo tentato da tre malviventi è stato prontamente sventato dagli agenti della Polizia di Stato che hanno tratto in arresto Emanuele Lanza, 19 anni, Erman Sirchia, 20 anni, e Salvatore Cristiano Lopez, 22 anni, accusati di rapina aggravata in concorso. I tre, già pregiudicati e travisati da Passamontagna, dopo aver minacciato violentemente i presenti, si erano impadroniti del denaro contenuto nel registratore di cassa. Le fasi dell'operazione sono state tuttavia notate da degli agenti che transitavano dalla zona, i quali hanno immediatamente fatto irruzione nella farmacia, bloccando e disarmando i rapinatori. Una volta restituito il bottino ai titolari, i tre malviventi sono stati portati in questura e poi condotti presso la casa circondariale Lorusso di Pagliacelli. Ulteriori indagini sono in corso per analizzare episodi delittuosi compiuti nell'ultimo periodo con modalità analoghe alla rapina in questione che potrebbero indirizzare agli stessi rapinatori. Restiamo nel capoluogo siciliano dove continua la battaglia per la riassunzione degli ex sportellisti regionali del settore della formazione. Qualcosa si muove per gli ex sportellisti regionali impiegati a Palermo nel settore della formazione. Oggi si è tenuto un incontro costruttivo con l'assessore regionale al lavoro, Mariella Ippolito, con cui si è fatto il punto sulla situazione dei lavoratori. Lo scopo è quello di ottenere nel più breve tempo la riassunzione nelle partecipate da cui sono stati esclusi. Praticamente tutte le leggi a favore dei lavoratori sono state ribadite in questo tavolo. Tutte le mancate applicazioni dei sindacati in cui si dovevano battere praticamente oggi le abbiamo messe sul tavolo, abbiamo portato sentenze, abbiamo portato tutto all'assessore e ci ha risposto l'assessore che è per la legalità e quello che vogliamo noi, quello che vogliono i lavoratori. Il rispetto della legalità di tirare indietro gli orologi è stata per noi una nota molto positiva perché finalmente si può dare speranza a tutti questi lavoratori massagati per un sistema corrotto e clientelare. Buona notizia invece sul fronte degli autobus urbani a Catania. Nei prossimi giorni arriveranno nuovi mezzi. Nei prossimi giorni 42 nuovi bus MT entreranno in funzione a Catania e nei prossimi mesi, grazie ad un mix di fondi, diventeranno 120. I mezzi saranno tutti nuovi e questo renderà di fatto il capologo Etneo la prima città che in relazione al numero dei propri abitanti potrà vantare bus di nuova produzione. Una buona notizia che dovrebbe assicurare nuovo ossigeno alla mobilità cittadina e che arriva dai banchi dell'opposizione in Consiglio Comunale e dunque anche dall'amministrazione uscente e non a caso, visti i tempi di avvio dell'intera operazione che risalgono a prima delle ultime elezioni amministrative. Stamattina i particolari sono stati spiegati nel corso di un incontro a Palazzo degli Elefanti sono stati dall'ex sindaco e presidente del Consiglio Nazionale del Lanci Enzo Bianco e dai consiglieri del gruppo con Bianco Daniele Bottino e Lanfranco Zappalà del gruppo Catania 2.0, Giuseppe Gersomino, Francesca Ricotta e Mario Tomasello nonché dal presidente uscente della municipalizzata Puccio La Rosa. Sono arrivati in questi giorni già 14 nuovi autobus nel giro di un'altra settimana in totale ne arriveranno 42 42 autobus da 12 metri di ultimissima generazione che saranno destinati presumibilmente alle lunghe percorrenze quindi al BRT e al Librino Express e alle altre lunghe percorrenze. Successivamente con altri fondi, questi sono fondi del PON Città Metropolitana ne arriveranno degli altri entro 8-9 mesi per un totale complessivo di 120 nuovi autobus a Catania. Pensate, in questi giorni gli autobus che circolano per la città non arrivano a 80, 129 autobus di ultima generazione puliti attrezzati anche per le persone portatori handicap e tutto questo con un'attenzione particolare anche verso gli studenti che a Catania hanno la possibilità di girare gratis per gli autobus. È una vera e propria rivoluzione dopo il tempo della semina arriva il tempo del raccolto. In particolare l'azione PON Metro ha previsto l'acquisto di 42 autobus lunghi 12 metri a metano da utilizzare sulle linee ad alta regolarità BRT-Librino Express per un importo complessivo di oltre 14 milioni e 385 mila euro. La gara è stata avviata ad agosto del 2017 appunto sotto l'amministrazione Bianco ed è giudicata a gennaio 2018 all'industria italiano Autobus S.P.A. Il relativo contratto, che prevede un importo a seguito del ribasso offerto di oltre 12 milioni di euro è stato stipulato nel marzo scorso e assicurava la consegna della fornitura completa a settembre e ottobre dell'anno 2018. I primi mezzi sono infatti arrivati pochi giorni fa. Riprenderanno invece a gennaio i lavori per il collettore fognario sospesi nei giorni scorsi a causa della presenza del sottosuolo di un cavo dell'alta tensione dell'Enel l'assessore ai lavori pubblici del comune di Catania Giuseppe Arcidiacono ha confermato ai nostri microfoni che per venire incontro l'esigenza dei commercianti di via Messina a Catania già fortemente danneggiati troverà una soluzione. Faremo passare il Natale sereno ai commercianti e anche a chi ovviamente li utilizza è chiaro che però in gennaio dovremmo riprendere l'attività perché vanno completati e per evitare ulteriori problemi io inviterò il comune di Cicastello perché ormai è in itinere tutto ma i comuni dei paesini con termini perché anche loro devono allacciare i loro collettori al canale di gronda quindi per evitare quello che è successo da Cicastello dove devo dire era stato fatto prima che arrivasse questa amministrazione era stato fatto un programma per poter evitare ma purtroppo questo programma non ha evitato anzi ha creato veramente non pochi problemi noi cercheremo di farlo spero io di farlo al meglio e magari sarà mia cura convocare anche la ConfCommercio perché è giusto ed è opportuno che insieme decidiamo su come rendere al meglio rendere al massimo la possibilità che la gente non possa averne difficoltà in genere Torniamo a occuparci del dissesso del comune di Catania nell'attesa che il governo nazionale decida se concedere o meno dei fondi speciali per il salvataggio del comune di Catania l'amministrazione pogliese preferisce non commentare in questi delicate ore di attesa noi abbiamo sentito il presidente nazionale del lancio Enzo Bianco sulla vicenda l'associazione nazionale dei sindaci infatti è impegnata insieme all'amministrazione comunale ad interloquire con il governo Bocche cucite a Palazzo degli Elefanti a Catania a proposito dell'intervento del governo nazionale sul dissesto già proclamato dalla Corte dei Conti il faccia a faccia al viminale tra il sindaco pogliese e il vicesindaco Bonaccorsi il sottosegretario Candiani e i tecnici ministeriali al momento è servito semplicemente ad allungare i tempi di attesa qualche giorno di limbo che non smorza la speranza di lavoratori e imprenditori della città ma che non allontana neppure dalla preoccupazione principale la gravissima crisi di liquidità delle casse comunali la cui anticipazione di tesoreria annuale è stata esaurita al momento dell'insediamento della nuova giunta il presidente del consiglio nazionale del lancio l'associazione dei sindaci ed ex primo cittadino di Catania Enzo Bianco analizza alcuni aspetti tecnici necessari per comprendere le difficili dinamiche in corso no guardi su questo argomento bisogna essere precisi e bisogna dedicare probabilmente un approfondimento ad hoc non una battuta al volo perché il tema è un tema molto delicato la mia sensazione è che ci sia un po' di confusione il comune di Catania in questo momento ha soprattutto un tema delicato dal punto di vista della cassa ha diritto ad avere dal ministero una parte rilevante dei contributi di solidarietà solo che approvi il bilancio consuntivo del 2017 quindi non capisco per quale ragione non si approvi subito in consiglio comunale il bilancio consuntivo questo consentirebbe per esempio di pagare gli stipendi ai dipendenti comunali e le altre aziende altra questione è quella del piano di risonamento che oggi ha la possibilità di essere riproposto al consiglio comunale utilizzando la possibilità di spalmare la condizione debitoria per 30 anni anziché per un periodo più limitato e quindi di rimettere in ordine i conti del comune salvare il comune non è solo possibile io spero che sia un dovere e che sia da tutti avvertito come un dovere Adesso ci spostiamo alla Confcommercio di Catania dove è stato presentato questa mattina un'importante fiera che si terrà a breve 8.000 metri quadrati oltre 250 espositivi funzionali scenografici 800 marchi leader nel settore della ristorazione questi numeri di RHS Ristoro Hotel Sicilia la manifestazione sostenuta da Fipe, Assipan e Federalberghi regionali è dedicata ai settori della ristorazione bar, gelaterie, pasticceria, pizzeria, panetteria e in generale gli operatori del mondo ORECA RHS, proposta da Expo Mediterraneo l'ente del sistema Confcommercio Catania preposto all'organizzazione di grandi eventi fieristici è ormai giunta alla quindicesima edizione ed è diventata punto di riferimento per i professionisti nel settore di Sicilia, Calabria e Malta che l'hanno portata in cima alla lista degli eventi dedicati alla ristorazione professionale del Sud Italia Abbiamo già 23 richieste di esposizioni per l'anno prossimo è un percorso difficile, è una sede che io spero possa essere definitiva se non fosse definitiva ne costruiremo un'altra nella stessa location perché la location è certamente quella giusta è un qualcosa per far ridiventare Catania il polo di attrazione fondamentale economico della Sicilia e del meridione d'Italia alcuni grandi operatori del centro e del nord ci hanno già segnalato interesse quindi ecco che non sono solo operatori catanesi ma sono anche grandi operatori del centro nord che riconoscono in questa realtà potenzialità notevole vi posso dire che l'ente fiera di Roma ci ha dato anche la disponibilità a entrare in un'eventuale società che noi dovremmo evidentemente costituire col comune di Catania, con la regione e con quanti altri ci staranno è un percorso in itinere ma certamente è il percorso giusto ce lo dicono gli operatori la mission è quella di promuovere l'ospitalità la distoriazione e il turismo attraverso iniziative professionali di vario interesse capaci di coinvolgere tutti gli operatori del settore l'ente fiera muove tutto muove il turismo, muove l'artigianato perché pensate quanti elettricisti, quanti montatori pensate a quanti viaggi in taxi si fanno pensate a quante cene si fanno pensate a quanti pernottamenti in albergo si fanno cioè l'ente fiera muove tutto e poi soprattutto crea dei contatti che producono risultati in futuro show cooking, seminari, masterclass concorsi un ricco calendario di eventi fatto di percorsi formativi forum di approfondimento, competizioni e performance tenute da chef maestri pasticceri e gelatieri di alto livello un evento specializzato che si rivolge principalmente al settore dell'oreca quindi parliamo di pasticceria, gelaterie, ristorazione, albergo ma effettivamente siamo presenti là dove c'è il cibo dove c'è la preparazione dell'alimentazione quindi di un prodotto alimentare e noi siamo presenti perché all'interno ci sono anche attività che fanno confezionamento quindi attrezzature per il confezionamento per l'abbattimento degli alimenti per la conservazione in genere RHS Ristor Hotel Sicilia si svolgerà dal 10 al 13 novembre al centro fieristico Etna all'interno del centro commerciale all'ingrosso della città di Catania Bene, adesso non ci fermiamo per la pubblicità subito dopo lo sport Una storia secolare alle pendici dell'Etna la distilleria fichera dal 1871 è leader nel settore dei liquori e dei distillati esportandoli in tutto il mondo crema di liquori, rosoli, amari, grappe e distillati prodotto di punta e il fuoco dell'Etna più forte e più buono che mai Distilleria Fichera Via Stabilimenti 237 Santa Venerina, Catania www.distilleriefichera.it www.distilleriefichera.it Grazie a tutti. Contattaci. Contattaci su Facebook. Contattaci su Facebook. Contattaci su Facebook. l'entità che determinano un po' il calcio, che sono non solo la Lega, ma sono le società, la Lega, le scuole, mettersi insieme come hanno fatto tantissime piazze in Europa per rifondare i sistemi, perché quando un sistema non funziona più nel mondo c'è un'evoluzione che è pazzesca e tanti sistemi anche a livello lavorativo tradizionale si stanno evolvendo in una maniera così rapida, anche il calcio quando un sistema non va più va rivisto. Ed era questo l'ultimo servizio e vi ringrazio come sempre di aver seguito il nostro UltimaTG.